Ci potrebbe essere anche Giampaolo Tarantini a testimoniare in aula a Lecce nell'ambito del processo a carico di Antonio Laudati, l'ex procuratore di Bari a giudizio con l'accusa di favoreggiamento personale e abuso d'ufficio, accusato di aver favorito l'imprenditore barese nell'ambito dell'inchiesta sull'escorto portate delle residenze di Silvio Berlusconi tra il 2008 e il 2009. Nel corso dell'udienza il procuratore Cataldo Motta a rappresentare l'accusa insieme all'aggiunto Antonio Ridonno ha inserito tra i testimoni da ascoltare anche Tarantini. L'esame in aula dell'imprenditore tuttavia potrebbe venir meno nel caso, come sollecitato dallo stesso procuratore, dell'acquisizione delle intercettazioni delle conversazioni tra Tarantini e La Vitola e trasmesse come stralcio alla procura di Lecce da quella di Napoli nel luglio 2011 nell'ambito del procedimento che portò poi all'arresto di La Vitola. I difensori di Laudati, Andrea Castaldo e Angelo Pallara, si sono opposti alla richiesta di acquisizione delle intercettazioni sulla quale si esprimerà il Tribunale nella prossima udienza fissata per il 3 novembre. Escono invece dal processo i cinque giornalisti accusati di diffamazione ad aver accettato la remissione di querela nei loro confronti di Laudati, con la loro posizione ad essere quindi stralciata dal procedimento con il non luogo a procedere.